A San Domenico Maggiore a Napoli in concerto Vinicio Caposela con la direzione artistica di Enzo Abitabile, musica tra sacro e profano, canti della tradizione antica e popolare, con Caposela un gruppo di musicisti campani. Il concerto rientra nell'ambito del progetto Musica del Sud, Identità e Rivoluzione, iniziativa dell'assessorato alla cultura del Comune di Napoli e finanziato dalla Regione. Musica del Sud